Musica Bella ragazzi, qua Ivan da Hazard Gaming e siamo qui per una nuova partita su FIFA 12 in compagnia con Darkus06 che poi adesso fa anche il giocatore quindi non gioco io quindi se scazza è colpa sua non gioco io con la squadra di Ivan è vero la Juventus più o meno ce lanza fame stiamo giocando con dei brasiliani i baggati della Madonna vabbè c'è Pato c'è Dede Maicon Hulk tutti tutti poi c'è Gesù vabbè neanche troppo forti prima abbiamo trovato uno inglese dopato a Guero abbiamo pareggiato tre pari però abbiamo detto dobbiamo vincere per me poi ha messo termine con un pareggio quel fifone del cazzo uno che ha tutti dei gran giocatori come va a fare il pareggio tra te perché noi stavamo vincendo 3-2 questo si va a fare all'ottantanovesimo la passa in mezzo con la Guero Tevez la baggata entra alla palla ma va a cagare poi c'era Bonucci in mezzo vabbè vabbè non diciamo come non l'han presa quelli lì vabbè ecco qua la squadra più baggata del mondo De Dele, Luiz, Marcello, Roberto Carlos ma che è Roberto Carlos? ha 89 anni che cazzo lo fai giocare quel poverino gli viene un infarto in campo cioè non è giusto ma sì tanto qua abbiamo Matri vabbè se non conoscete la Juve attaccate ah è Fernandinho non Danilinho mi viene un nome ma che ne so guarda come corre quel baggato questo ha pure Michel Bartos tutti i baggati tra i nostri madonna questo qui vuol vincere di bug Bonucci se siamo quasi riusciti a vincere contro quel coso là che aveva Guero dai figa attenzione arriva in attacco Matri e vai ma porco Matri si si sta quarto minuto con questa parte bene e partiamo bene con un bug vabbè prima mia oh si sta però cazzarola questi qua tanto ce lo farà anche lui di bug almeno sono registrato ok no perché non stavo registrando proprio adesso mi sparavo David Luiz mandato a pesce il gran baggato e adesso come si chiama S no FSV no Edstead Debsmaze dai cazzo guarda il col di merda ok grande buffone già Luigi Buffon un giocatore una merda non una leggenda no ma dai Gigi no non la passava lui dai abbiamo il giocatore di FIFA più abile del mondo d'arcos 0-6 non ci gioca neanche da un po' infatti si vede stai solo vincendo si si 8-0 figa dai ti prego figa dai porca non si può dire devo mettere il bico porca Eva ma perché l'ho passata dovevo tirare che cosa utilissima come prima si invece di tirare no la passi lui fa gol chissà perché oh ma cos'è si ma dammi fallo no le baghe guarda che bug è sto giocatore arriva Bonucci vero dovrebbero mettere un nero Bonucci con tutto che Gokla ha fatto si ma dede se mi fai una dedeata Pepe è già morto non c'ha più corsa e David Luiz il baggato che corre come Gianni Morandi chissà allora va va a buso che cazzo mi fai l'Uber sega Gigi si Gigi è un cazzo Giorgio si è fallo amico sto milanista del che succede amico cosa succede meco meco calma meco guarda Cazares il fallo madonna non l'ha dato cioè non dai falli come crediamo di poter vincere se questo fa fallo questo è un bel cross mi è piaciuto è caduto mentre è crossata non l'ha dato neanche il fallo no no vabbè sto gioco è più buggato della Mona Lisa DMV3 no DMV3 possiamo dire no DMV3 non è buggato è solo un gioco di merda è per connessionati per connessionati quindi per buggati oh è passato lì vai attenzione no matri cacchio è che la prende dedè che ha 0-2 di connessione 0-2 di difeso sto qua guarda bastos il buggato numero 6 ma quanto è di numero 11 il buggato cosa fa i numeri che non li sai fare caschi cioè li fa la puft guarda questo è un numero se la alza al volo e tieni cos'è corri te e vai che raffreddo ecco il buggato numero 2 Marcello o Marceau ah no Marcellus come si chiama quello di Colorado che faceva il motociclista Marcello Marcellus eh sì qualcosa del genere eh tipo troppo buggato quello lì guarda le robe strane la motosega ecco la motosega del porcerino pig basta dobbiamo giocare mano mi non è fallo amore non è fallo pelato del puft del puft non è fallo mi arriva il volo mi danno una ginocchia ti blocca non è fallo guarda che linee guarda che linee no 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 perché non pensavo di prendere oh perché dovevi passare la parla al guardalinea ma è mica facile beccare al volo il guardalinea guarda qui che retro passaggio per fare ho spiorato X gioco dei guarda come cazzo corre pato il bagato numero 6 di sto gioco no me la passa no grossi merdi ah bonucci minchia bonucci ha 78 più forti di Dede che ha 99 è un grande passaggiatore oh ma li becchi sempre in mano questi qua fanno falli di mano ma non ci sono ho più lanza fame lanza fame che merda il bug l'ho sfondato tutti però prima ha fatto col di rovesciata non ci credevamo anche lui bonucci mamma mia i fallaci ma cosa fa ma io ti amare cosa ha fatto a Rabona Luiz boh beh mi sembra che avesse scazzato una Rabona era passata ma non c'è il numero che ha fatto su Casares proprio da bagato il numero 2 secondo me Casares se la porta a casa e fa pure la Rabona quindi si incazza madonna no madonna le vabbè si è butta in scivolata alla muzzo ne beccherai uno o due dei passaggi no pure io ma lo voglio no che questo qui è bagato ancora come un maialo stiamo in vantaggio mamma mia Giorgio se non c'era lui perdevamo 6 cazzo fa sto qua fa i numerini bagati 2 minuti dopo 2 minuti dopo pareggio pareggio fernandinho 360 no scopo no ma non fa gol pace ok adesso da rigore perché Bonucci ha tirato sotto Chiellini vicini al 45esimo Hazard Gaming FC prenderà il gol della disfatta l'ho detto l'ho detto se succede mi devi dar 10 euro adesso ha avuto un gol chissà perché che bug non è fallo no ho preso la palla con le mani ho giocato a palla a volo non è fallo mica già sta arrivando attenzione attenzione appoggia se non sta in piedi mi incazzi guarda lo lanza fame no me l'hanno ciulata oh e tenetelo ecco Ivan è andato un attimo a parlare mamma mia Buffon in via subito mi dal fine primo tempo 1-0 Hazard Gaming FC BW0 le gole assuma ok non mi sei sentito eh perché cos'è che hai detto io sono andato un attimo che dovevo uccidere un furetto non c'è niente da fare furetto si infiltrano da tutte le parti cos'è che due tiri per uno e noi abbiamo fatto un gol magnifico più che altro ci voleva Del Piero guarda Del Piero avrebbe attenzione ma le intercettano sempre di mano io non li capisco se siete buggati qua si gioca a ping pong cioè giocano a palla a volo se vanno a fare i campionati mondiali di palla a volo questi vincono sono già preparati forse di giocare a calcio se volete un altro commentary del genere sicuramente cliccate non mi piace allora no se cliccate non vi piace mi incazza e vi rompo il culo ecco ovviamente si scherza mi raccomando non prendetela sul serio se no c'è da darsi fuori se prendete tutto quello che dicevamo sul serio addio vi dovete sparare guarda che cuore oh oh posso tirarti prego oh porca mi devo mettere il mio pancora porca metti pa via no è scazzato ah ho detto eh da dentro la porta me l'ha preso sto caro meglio che non hai tirato sono bestemmiato sono bestemmiato sicuro sei scazzato guarda lanza fami i numeri a 6 stelle a 6 stelle dribbling non è fallo no veramente non è altro fallo guarda quanto è buggato Carlos vieni qua ma guarda Decegli Decegli è il buggato numero 3 mamma mia Simone Pepe Rakes ti pareva è uno degli airflex Pepe Pepe RX Hitler RX Hitler RX guarda che cross f***a quanto me lo guarda uno montaggio di Hitler R no stava facendo lanza fami ha fatto una rovesciata prima non l'avete vista si lanza fami no questa è Matrix perché ha fatto vedere lanza fami vabbè questo gioco sappiamo i numeri buggati che fa sto gioco qua se seguite chiso la GDBT sapete tutto se non lo seguite Amen cioè questo filtrante qua è magico in mezzo alla zafame traversa ma Pepe ci vuoi fare infatti ho pure cercato di selezionarlo attenzione attenzione il gol di chiuso la GDBT che schifo solo la 0 qua bisogna fare minimo 8 cioè a questo punto però è forte su qua quindi ci sta ci sta ma che forte c'ha dei giocatori buggati Maicon Pato che Pato fa gol da solo lasci giocarti fa 360 quickscope rispetto a noi meglio cioè noi con la squadra buggata porca Eva non fa un gol fuori gioco cazzo fa i numeri ora tira non ce la fa perché c'è Giorgio Chiellini la bestia vabbè se avevamo sai che se avevamo Giorgio Chiellini nero praticamente non ci fanno neanche gol si era ogni presente ogni potente ti ferma il difensore appena prende la parla si immobilizza perché ha paura di Giorgio non è fallo gli sei passato in mezzo come un fantasma non è fallo dato esce frocio del cazzo ok cioè è riuscita a salvarla neanche chi se la giri vedi figa è fallo ha dato fallo vabbè però non l'ha dato chissà perché non dà neanche il cart amico sarà fuori gioco guarda Buffon che esce da solo e la salva ok è vero c'è anche Hulk ma dai è lui ha tirato infatti ho visto il tiro di Hulk e mi sono ricordato che c'era Hulk scusate ho tirato un po' di scadar ho una striscia zebrata no scherzo se secondo me ti chiami zebra 2 non è fallo più spallate di così non ne ho mai viste neanche nel rugby no veramente guarda lo fai i numeri infatti viene superato da Borrucci non ti vergogno cioè Marsello passa in mezzo a tutti no cioè in mezzo nel senso proprio fisicamente in mezzo passa in mezzo come il fantasmino Casper ah sai che credevo che fosse il difensore l'arbitro quello lì Casper attenzione mamma mia matri il dribbling perché l'ho detto appunto il dribbling guarda Hulk il gran gola porca troia l'ho detto secondo me Buffon le parerà tutte intanto abbiamo quasi finito il ciccio quanto il 76 cazzo fai i numeri che non sei buono poi tira così a muzzo poi tira a muzzo c'è pure il gol adesso rigore perché la toccata di Manochellini mamma mia Marchisio li stende matri non sei buono a far gol e vuoi fare i numerini mamma mia matri non è buono a far gol no mentre matri il gol solo a casa mia ti vengono ste magie ti venisse mamma mia ma il gol ma era anche centrale questo qua non l'ha parata cioè centrale se non la metti a fil di palo la parano sempre praticamente stavolta era anche centrale o no no e allora gol il gol è stato il gol bellissimo chi è che è in porta Giulio Cesare e Pirlo vuole fare i numerini per smerdare ancora di più il palonetto ma dai eh casca da solito quando sono pro mi si sta squaliando la telecamera in mano ecco veramente mi si sta sbollentando la mano una bistecca questo mi è piaciuto vedi sono a casa mia oh questo è gol se non lo dicevo però fernandino che fa un gol così per me è improbabile adesso mi fa il parere vabbè anche Matrix fa il gol così questo ti pareggiano davanti calo fisico cioè psicologico c'è sempre la fine che lo piglio sempre guarda Giorgio che non riesce più a fare una sega adesso l'ho detto 360 a quickscope no ma perché mi dovrò sempre inculare alla fine mamma mia Bollucci ha fatto una cosa decente mamma mia Marchisio ce li fuma che l'ho detto Vidal è morto non c'è anche un po' più cioè questi sono i cross fighi i falloni sì ma che cacchio sei Mike ah Mike per forza c'è un dio in terra Mike cazzo corri che lì fischio senti un po' se io ti falcio guardalo Andrea Pirlo che fa del difensore i numeri ecco gli scatti il gol cazza fai al novantesimo tanto hai perso la guffatta finale il golasso la ripartezza al novantes si piglia il giallo alla fine no da lì il rosso si piglia il fallo tiro a metà campo il golasso Bollucci nero è vero io voglio il Bollucci nero bella lì abbiamo vinto con un golasso o no guarda yeah proprio l'esultanza più bella infatti il gol al quarto minuto è l'ottantesimo è veramente comunque vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia se volete altri episodi episodi tra virgolette del genere non mi piace commentino con scritto fuck you ok con scritto commenti di merda e alla prossima ciao ciao ciao